Carissime maestre, abbiamo pensato di scrivervi alcune semplici righe per esprimervi tutta la nostra gratitudine per l'anno vissuto insieme ai nostri piccoli. Grazie per come avete saputo prendervi cura di loro, con affetto materno ma allo stesso tempo aiutandoli a superare con sicurezza i primi distacchi. Grazie per la pazienza dimostrata ogni giorno con i loro piccoli capricci ma anche con le nostre domande e i nostri mille dubbi. Grazie per aver insegnato loro ogni cosa con impegno e dedizione facendo in modo che ci mostrassero fieri i loro piccoli traguardi. Grazie per aver saputo gestire al meglio anche le situazioni più delicate come un addio al pannolino più difficile di altri o un inserimento più impegnativo. Grazie per i bellissimi lavoretti realizzati a Natale, a Pasqua, per la festa della mamma e per quella del papà e grazie per esservi ricordate di ogni ricorrenza speciale. Grazie per aver fatto in modo che i nostri piccoli varcassero la soglia della scuola sempre con il sorriso sia all'entrata che all'uscita. Grazie per averci sempre reso partecipe con entusiasmo dei loro progressi e delle loro piccole grandi conquiste. infine un grazie speciale forse il più importante per averci regalato ogni giorno la serenità di sapere i nostri figli al sicuro amati e coccolati come a casa con affetto e gratitudine i genitori della sezione B.